Eccoci di nuovo con l'entrante De Melo, mi sembra che come diceva appunto Rencifo stai entrando e quindi è passata la situazione chiaramente che ti ha costretto a stare un po' di tempo fuori. Quindi fra Coppa e Campionato pronti per queste gare, chiaramente la Coppa è andata non benissimo però si può ancora recuperare, giusto? Ciao, buonasera a tutti. Eh sì, abbiamo giocato lì martedì, a casa di Buona Onda, secondo me abbiamo fatto una buona partida, è mancato qualcosa però questo ci sta, abbiamo perso la zero però a ritorno abbiamo giocato a casa, giorno 20, voglio invitare tutti i tifosi per venire a aiutare la nostra squadra pure. Alle 21, tutti i mercoledì 20, parliamo di campionato, parliamo di questa settimana che sta passando, viste con la trasferta di Coloferro, forte Coloferro che mi sembra che possa essere una gara alla portata. Sì sì, giochiamo lì sabato, sto rientrando adesso, dopo due settimane da fermo, sono pronto, voglio aiutare la mia squadra e faccio quello che chiede il mister, se lui fai il gioco io gioco, se no sto tranquillo lì, pure aiutando le squadre da fuori. Ci penserà lui a gestire i tempi con cui devi rientrare, è chiaro che se non ce la fai per tutto o per troppo tempo ti metti a riposo e poi riparti, no? Eh sì, penso che tutto la partita non riesco a fare ancora, sono un po' deboli fisicamente, devo recuperare il ritmo, però sto lì, se hai bisogno di me sto lì, pure non abbiamo il rinchi, che è squalificato, un'altra giornata ancora, però diamo il nostro massimo per uscire da lì con la vittoria. Sì, ma comunque gli altri ragazzi, anche con le vostre mancante, hanno retto l'urno, sono stati bravi. Sì, sì, hanno giocato benissimo tutti, solo voglio fare complimenti ai miei compagni, sono stato fuori e mi sa 4 partite e loro hanno fatto il massimo, stanno giocando benissimo veramente, devo fare complimenti. Sicuramente è anche il tecnico bravo a gestire. Sì, sì, pure il mister, il mister lo sa quello che devo fare, pure se stiamo giocando male, lui chiede un tempo, aggiusto la squadra, è così che è, la squadra è così. Ma conoscevi già Treglia? Conoscevo da fuori già, no? Da nome, come nome? Sì, come nome, però noi abbiamo lavorato insieme prima, no? Ah, perché tu sei stato anche intorno, a Forme, quindi... Sì, sì, sono stato qua intorno a giocare, no? È bravissimo, mi piace tanto lavorare con lui. È bravo a gestire la panchia, a gestire il cambio e quanto c'è il tema alto. Sì, 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 è bravissimo. Tanto che noi stiamo giocando bene, lui sai che la parola è giusta che deve dire, queste cose, no? Per mettere la squadra a posto per giocare. Oltre al Cipo, chi altro manca? Mi sa che solo il Cipo manca questa giornata, no? D'accordo, in bocca a lungo. Crepe, grazie.